Dai, dai, dai Capocce che oggi è sabato 18 maggio, sicuramente la nostra dirigenza non si sarà svegliata senza allenatore e no perché sabato 18 maggio il Milan è ancora senza un allenatore del futuro scherzi a parte, buon pranzo a tutte Capocce Rossonare, vi ringrazio per essere ancora qui con me indosso la maglietta del Milan non a caso perché oggi siamo in giornata partita giornata partita di questo Torino-Milan praticamente ieri Stefano Pele ha parlato in conferenza stampa ancora altre news per quanto riguarda il futuro allenatore del Milan andremo a parlare di tutto voi ovviamente lo sapete, Goku è sempre lì in attesa del vostro supporto quindi immaginatevi come Goku con un po' meno capelli però polliciozzo in su like al video, iscrivetevi al canale per gli iscritti attivate la campanellina delle notifiche ieri giornata di conferenza stampa di Stefano Pioli sempre ormai molto anche troppo polemico nei confronti dei giornalisti cerca sempre di levarsi i sassonini dalle scarpe ieri si rivolge diciamo un po' a muso duro dicendo avete rotto le scatole fino a questo momento ormai attendete gli ultimi dieci giorni per sapere il mio futuro per quanto riguarda il suo gruppo di lavoro ha definito l'ambiente Milan pieno di giocatori fantastici premiera tutti in queste ultime due partite e proprio ci sarà contro il Torino una formazione inedita perché giocherà in porta a Sportiello in difesa da destra a sinistra Calulu che viene in questo finale di stagione fatto ritornare tecnicamente a quello che è il suo ruolo il terzino destro ricordiamo le parole di Stefano Pioli di inizioando Calulu lo vedo come terzino destro poi ha giocato quando ha giocato quando non è stato infortunato e rotto dal suo staff sempre centrale un altro esempio della confusione che praticamente ha fatto da padrone nella testa purtroppo quest'anno del nostro allenatore Stefano Pioli quasi ex difesa formata da Tomori e Ciao con a sinistra Terracciano il famoso desaparesito Terracciano a cui auguro ogni bene ricordiamo il giocatore classe 2003 che è arrivato a gennaio dal Verona pagato 4.500 giocatore giovane, giocatore di prospettiva sicuramente giocatore che si giocherà le sue chance nel ritiro del Milan e lì si cercherà di capire se in qualche modo potrà essere ritenuto degno di far parte della Rosa del Milan dell'anno prossimo magari il Milan cercherà di valorizzarlo in prestito in qualche squadra di Serie A a centro campo leggende narrano che in qualche modo ci schiereremo a tre con Benasser, Reinders e Musa e in attacco Pulisic punta, non giocherà Giroud, Bensiovic con a sinistra non Leao ma Okafor quindi altra panchina consecutiva per Leao forse con la testa un po' altrove con la testa troppo sull'europeo, con la testa a cercare di recuperare dopo un'annata faticosa al di là di tutto queste palle Stefano Pioli doveva mostrare dal giorno 1, dall'inizio dell'anno c'è stato un momento in cui Leao ha giocato male nel 2023 soprattutto verso la fine del 2023 e obiettivamente lì potevi metterlo in panchina, potevi fargli fare qualche panchina in più in favore di un Okafor sempre positivo quando ha giocato è anche vero che ci sono stati dei momenti in cui sia Leao sia Okafor si sono rotti insieme ci sono stati dei momenti in cui quando Leao doveva per forza tirare la carretta rientrava dall'infortunio, non era in condizione, si è rotto pure Okafor al di là di tutto doveva dimostrare sicuramente un po' il pugno duro Stefano Pioli in più parti dell'anno e non solo adesso quando non conta più al di là della sua conferenza stampa ha lasciato intendere che a più riprese potrebbero essere gli ultimi giorni alla guida del Milan, lui stesso cerca di non pensarci al di là di tutto in discrezione riportano come i primi giorni della prossima settimana possono essere i giorni fondamentali sia per delineare quello che sarà il futuro di Pioli l'addio di Pioli del Milan come ci sarà una risoluzione del contratto ci sarà un esonero oppure Pioli affermerà di essere in trattative con altri club e quindi ci cercherà di trovare un accordo su un'ipotetica buona uscita non lo sappiamo però ormai siamo arrivati agli sgoccioli anche per quella che sarà la scelta del nuovo allenatore ora io ragazzi sono sempre stato molto calmo su tutti i 2.000 nomi che circolano intorno al Mondominale ieri per la prima volta sia Fonseca e scusate sia Moretto sia Fonseca sia Moretto che Romano si sono esposti nei confronti di Fonseca come avevano fatto per Lopeteghi diciamo che Romano è stato molto più prudente ha detto ci sono dei contatti ci sono delle chiamate però il condizionale è d'obbligo come abbiamo visto per quanto riguarda la vicenda Lopeteghi adesso ragazzi io rimango nella mia opinione per me Fonseca rappresenta il piano A di tutti i piani B quell'allenatore che sta facendo bene da due anni a Lille bravo a valorizzare i giovani bravo a valorizzare il materiale umano che la società mette a disposizione ovviamente uno yes man perché questa società abbiamo capito vuole allenatori totalmente aziendalisti vuole yes man che in qualche modo possano non entrare in rotta di collisione con la società però obiettivamente ragazzi se il tifoso del Milan ha fatto il diavolo A4 per Lopeteghi e poi tu dopo due settimane fai calmare le acque e ti presenti con Fonseca nella settimana in cui il tuo presidente cardinale viene intervistato a Bloomberg e praticamente afferma che il suo maggior partner sono i tifosi che il parere dei tifosi conta più di ogni altra cosa ti presenti con Fonseca allora sei veramente stronzo allora non hai capito nulla non hai capito di come girano le cose a Milano di cosa sia e cosa rappresenti il tifo per il Milan e allora lì in quel giorno alzerò le mani però io penso sempre una cosa cardinale a più riprese ha dato a Zlatan Ibrimovic pieni poteri ha detto che Zlatan Ibrimovic sarà il suo braccio destro è anche vero che io più volte vi ho detto finché non ci sarà il ritorno del fin quando Redbird non riuscirà a saldare il suo debito nei confronti di Elliot aspettiamoci una grandissima influenza di Elliot con il suo nome Furlani a capo come amministratore delegato del Milan adesso ragazzi ripeto per me Fonseca è il piano A dei pieni B ed è magari il nome che la società vuole dare in pasto ai giornalisti vuole che si parli di Fonseca per distogliere magari l'attenzione da altri profili che in questo momento la società sta trattando, sta contattando, sta vedendo io ragazzi sono pazzo, sono visionario non ho più un briciolo di lucidità nella mia capoccia lo ammetto ma io continuo a credere non a avere la certezza a credere che fin quando Antonio Conte non troverà panchina io una chiamata last minute un incontro last minute un incontro in grandissimo segreto con Ibrimovic lo metto sempre in conto ieri sono usciti altri nomi al di là del Fonseca il più sponsorizzato ma è uscito il nome di Scaloni attuale CT dell'Argentina campione del mondo 46enne anche lì bravo nella valorizzazione dei giovani a lavorare con i giovani profilo che sicuramente in qualche modo potrebbe riscontrare dopo la recente vittoria un parere più positivo rispetto a Fonseca ieri pomeriggio in enorme risalita le quotazioni dell'Olanda di Mark Van Bom addirittura dall'Olanda parlano come ormai sia fatta sarà lui a guidare il Milan del futuro obiettivamente ragazzi ripeto Van Bommer sarebbe una scelta che rispetto a Fonseca capirei di più perché parliamo di un allenatore che sicuramente non ha l'esperienza per guidare il Milan e siamo d'accordo però quantomeno è una scommessa cioè Van Bommer tu lo prendi ed è letteralmente una scommessa nel bene e nel male Fonseca è un discreto allenatore è quello Fonseca già sai cosa è Fonseca un discreto allenatore poi è anche vero che i Pioli 2.0 sono sempre dietro l'angolo ricorda ancora le enormi proteste dei tifosi del Milan non ai livelli di Lopeteghi ma ricordiamoci quando alla fine venne Pioli e Nospalletti ricordo le vibranti proteste i Pioli out che in qualche modo iniziarono ancora prima di vedere i Pioli sulla panchina del Milan e poi Pioli nei primi tre anni ha fatto grandi cose quindi obiettivamente non so cosa aspettarmi obiettivamente Van Bommer potrebbe in qualche modo essere quel nome esotico che tu piazzi sulla panchina e che da un lato trova il parere positivo di tanti milanisti non il mio nel senso che io ragazzi sono molto chiaro che sia Fonseca che sia Van Bommer che sia Conte io critico finché c'è da criticare finché la società non prende una decisione ovviamente appena si avrà l'ufficialità del nuovo allenatore del Milan questo povero Cristo ok non ha la colpa di guidare il Milan dovesse far male io in ogni caso lo sosterrò dal giorno 1 perché noi tifossi credo che possiamo criticare la società fino ad un certo punto quando la scelta in qualche modo verrà presa dobbiamo cercare di creare il clima quanto più sereno possibile perché la squadra è forte perché la squadra è buona e perché dovesse essere il Van Bommer della situazione qualora venisse fatto un mercato come si deve senza lacune quindi con la punta col mediano col terzino destro con dei piedi non con due mattoni e col centrale difensivo preferibilmente di piede sinistro Van Bommer comunque l'ha versa negli ultimi due anni ha dimostrato di avere caratteristiche interessanti ha dimostrato di avere un gioco efficace un gioco importante l'anno scorso ha vinto sia la Coppa che il campionato quest'anno purtroppo è arrivato in finale di Coppa Belga ma non ha vinto in qualche modo però ha dimostrato caratteristiche da leader da generale da persona che può stare in uno spogliatore importante con i sé e con i ma non si fa la storia spero vivamente che la società con un colpo di coda e con un colpo di testa di Ibra possa mandare la palla nel set e portare Milanello un allenatore non scommessa quindi ragazzi non ci resta di incrociare le dita fatemi sapere cosa ne pensate di questi ultimi nomi Vambom Fonseca e Scaloni Scaloni è stato nominato se non sbaglio da Bianchini sulle colonne della Gazzetta dello Sport la Gazzinter dello Sport come piace chiamarla sottoscritto pollice attenzione che al video iscrivete al canale attivate la campanellina delle notifiche tutto gratis offro io ci vediamo ovviamente stasera con il video post partita Torino Minas sperando di non fare una figura di merda perché ragazzi comunque sia ora al di là di tutto il turnover è pesante le partite non contano più però è anche vero che sarebbe anche decoroso tentare di finire l'anno ad 80 punti speriamo bene